Ciao a tutti, eccoci in classe con una nuova fantastica puntata di storia, oggi puntatone, fondamentale, è veramente un argomento questo, la rivoluzione industriale, che è un argomento di svolta, un argomento fondamentale, senza capire cosa succede in Europa e nel mondo con la rivoluzione industriale non potremmo certo capire il mondo che ci circonda. Siamo figli di più rivoluzioni, di diverse rivoluzioni, la prima della quale però, la prima rivoluzione industriale è sicuramente quella che forse ha veramente fatto una cesura, un taglio netto col passato, ci ha presentato, ci presenta ai nostri occhi un mondo completamente nuovo, molto più vicino al mondo a cui siamo abituati, un mondo di merci, un mondo di comunicazioni internazionali, un mondo che va più veloce, un mondo che si muove con le macchine, un mondo che si muove col treno. Tutto questo lo vedremo dopo la sigla e parleremo di tutti gli aspetti, sia le grandi invenzioni ma anche gli aspetti economici, demografici, proprio come cambia il lavoro, il tema del lavoro con la prima rivoluzione industriale. Grazie a tutti! La rivoluzione industriale Partiamo intanto da qualche definizione che piace tanto ai grandi e piccini. Allora, che cos'è la rivoluzione industriale? È intanto un processo graduale, è difficile dare una temporalizzazione molto chiara, un inizio e una fine chiaro, perché non si tratta di eventi storici, di battaglie che hanno delle date precise, è un processo che cambierà completamente il tessuto economico, produttivo, ma anche la vita delle persone nell'arco di circa cent'anni. Ecco, lo collocherei tra il 1760 e il 1840 o 50, quindi diciamo la seconda metà del settecento e la prima metà dell'ottocento. Questo è, diciamo, più o meno il periodo all'interno del quale, vedete, un periodo lungo, avverranno molte scoperte, molte rivoluzioni in diversi settori dell'economia, nel tessile, nella siderurgia, adesso lo vedremo, e anche cambieranno radicalmente le città, il modo di lavorare, nascerà un'economia di fabbrica, insomma, si arriverà a un mondo, se si confronta il prima e il dopo, sicuramente più simile e più familiare a un mondo che assomiglia, diciamo, al nostro, al contemporaneo. Il luogo, beh, il luogo è sostanzialmente l'Inghilterra, dico sostanzialmente l'Inghilterra perché la rivoluzione industriale nasce e si sviluppa per la gran parte in Inghilterra, ma verso la coda finale, verso la parte finale, inizierà a coinvolgere, a interessare anche l'Europa. Quindi è un fenomeno inglese che però poi successivamente, verso, diciamo, la parte finale, gli anni 30, gli anni 40, gli anni 50, inizierà a interessare a macchia d'olio anche l'Europa. Su cosa è basata la rivoluzione industriale? Beh, sicuramente una delle caratteristiche che è inevitabile nel definire la rivoluzione industriale è l'invenzione delle macchine. Le macchine che vengono alimentate da energia inanimata, cioè non più macchine trainate dalla forza degli animali o dalla forza dell'uomo, ma piuttosto macchine che vengono mosse da forme di energia, da meccanismi, vedremo, diciamo, l'energia idraulica è una di queste, ma soprattutto vedremo l'invenzione del motore a vapore. Quindi il processo di produzione, il processo di produzione artigianale che poi diventerà industriale nel corso della prima rivoluzione industriale sarà caratterizzato dal successo e dalla diffusione delle macchine, quindi l'ingresso delle macchine in molti settori produttivi. Diciamo, in questa prima rivoluzione industriale soprattutto si partirà da due settori produttivi dal tessile e dalla siderurgia e produzione quindi di metalli e vedremo, è tutto questo che poi però comporterà anche una rivoluzione successiva nel mondo dei trasporti con l'invenzione del treno. Quindi, diciamo, questi tre settori sono i tre principali che sono interessati proprio da questa rivoluzione. La seconda caratteristica è sicuramente il cambiamento, l'introduzione delle macchine, l'introduzione di forme di energia non più animale, non più umana, ma la meccanizzazione della produzione creerà un'economia di fabbrica, quindi la fine, se votiamo, o il deglino del lavoro artigianale, l'inizio di un lavoro invece a livello industriale e anche la produzione di beni di consumo di massa, quindi l'incremento gigantesco di produttività della fabbrica rispetto alla situazione precedente che osservava il lavoro artigianale, il lavoro per esempio nei telai con il domestic system, il lavoro manuale, quindi la successiva sostituzione del lavoro manuale, del lavoro artigianale con un lavoro di fabbrica, un lavoro sostanzialmente trainato dalla forza delle macchine e da una nuova organizzazione di salariati e di operai. È un evento, abbiamo detto, graduale ma rivoluzionario, l'Europa dopo la rivoluzione industriale sarà veramente diversa dall'Europa per precedente, radicalmente diversa, è un'Europa che non si muove più a piedi ma si muove in treno, pensate alla differenza con l'infrastrutturazione dei treni non solo nelle merci ma anche la differenza nella mobilità delle persone, quanto i posti si avvicinino, quanto le distanze quindi si accorcino, quanto cambino non solo i consumi ma anche lo stile di vita, posso andare da una parte all'altra e quindi visitare nuovi posti in tempi molto più brevi, cambia proprio il modo di intendere il concetto di viaggio, il concetto anche di trasferimento delle merci. È un evento che caratterizza la contemporaneità, il mondo contemporaneo che abbiamo detto era già stato animato dalle rivoluzioni politiche, ideologiche, i diritti, vi ricordate tutto questo che abbiamo detto, il concetto nuovo di Stato? Beh, viene forse ancor più caratterizzato dalla rivoluzione industriale, cioè il mondo contemporaneo è figlio della rivoluzione industriale. Tutto ciò che, il mondo che ci circonda, gli oggetti che abbiamo di fronte a noi, il tipo di commercio ma la stessa economia capitalista è figlia della rivoluzione industriale, ok? Attenzione, non ci sarà soltanto una rivoluzione industriale, questa è la prima rivoluzione industriale poi osserveremo una seconda, importantissima rivoluzione industriale, successiva però che osserverà, diciamo, nuove forme, nuove scoperte, l'energia elettrica, la chimica, l'acciaio ecco, questo sarà proprio della seconda rivoluzione industriale, mentre questa prima rivoluzione industriale sarà forse quella che in pochi anni avrà il maggiore, diciamo, violenza nel cambiamento sociale, pensiamo ad esempio al cambiamento radicale anche nelle classi sociali, che si polarizzeranno tra appunto borghesia e proletariato, saranno diciamo anche queste classi sociali che animeranno lo scontro politico, le rivolte, le rivoluzioni, i movimenti sindacali, i movimenti operai, quindi è un cambiamento a tutto tondo, graduale ma caratterizzante e in questo periodo, ripetiamolo, che nascerà grazie a causa della rivoluzione industriale il conflitto tra capitale e lavoro, ok? Quindi quello che ci rimane dopo la rivoluzione industriale non è soltanto un mondo nuovo di tanti vantaggi, con più merci, con più connettività, con più trasporti, con più, diciamo, capacità produttiva, con un miglioramento nelle tecniche, ma anche la nascita di uno scontro epocale e mai del tutto concluso tra interessi diversi di una società che viene polarizzata tra coloro che hanno i capitali e avranno quindi le fabbriche e avranno i mezzi di produzione e coloro che invece hanno solo le braccia e quindi diventano dei salariati. Contrasto tra capitale e lavoro. Se vogliamo anche suddividere un po' questo periodo, si possono prevedere, diciamo, alcune caratteristiche. Tra il 1760 e il 90, quindi il primo periodo della rivoluzione industriale, si osserva la meccanizzazione della filatura del cotone, poi vi spiego che cosa significa, c'è la meccanizzazione di una parte del processo del tessile, del processo di produzione, e la nascita di nuovi metodi di siderurgia con gli alti forni, con la produzione di coq, ok? E quindi di ghisa. Invece, in una seconda parte, dal 1790 al 1820, vediamo la meccanizzazione della tessitura, che è la seconda fase invece di produzione dell'industria tessile, e l'invenzione di macchine che cambieranno completamente la storia. Prima tra tutte, l'invenzione di James Va della macchina a vapore, ok? Infine, si può dire che dal 40-50 in poi c'è l'arrivo e la diffusione della ferrovia. Quindi vediamo che la rivoluzione industriale finisce con l'arrivo della diffusione del treno, che riguarderà non soltanto l'Inghilterra, ma poi, diciamo, progressivamente il resto dell'Europa e gli Stati Uniti d'America. Allora, alcune caratteristiche generali della rivoluzione industriale. Primo, velocizzazione dei tempi di lavorazione. L'idea di fondo è il tempo è denaro. Questa è sicuramente una conseguenza della teoria economica liberista di Adam Smith. Quindi, diciamo, in Inghilterra si era diffusa una mentalità imprenditoriale, una mentalità innovativa, una mentalità appunto pragmatica e commerciale. E quindi, diciamo, la teoria liberista di Adam Smith favorisce la diffusione di modalità che cercano di semplificare e velocizzare il mondo del lavoro e questo poi sarà proprio dovuto all'invenzione della macchina. Il simbolo della rivoluzione industriale è senz'altro la macchina a vapore, ne parleremo dopo. Le macchine sostituiscono gradualmente il lavoro dell'uomo. Osserviamo, ad esempio, proprio questo passaggio di consegne tra gli artigiani e gli operai. Ecco, quello che prima era un artigiano, aveva la sua bottega, i suoi metodi, i suoi macchinari, le sue modalità, le sue procedure, era anche abbastanza libero di impostare il lavoro, diventa di fatto via via, spazzato via dalla concorrenza delle fabbriche e delle industrie e quindi sostanzialmente si trasformerà in un operaio. L'importante è capire che l'incremento di produzione porta con sé un incremento di commercializzazione e vedremo che proprio la spinta della rivoluzione industriale porterà a nuove ondate colonizzatrici, nuove ondate imperialiste. Le grandi potenze industriali sono potenze che devono commerciare, che hanno bisogno di creare mercati aperti, di avere sempre nuovi mercati e questo nella storia poi comporterà nuove forne anche di colonialismo e di imperialismo nel corso dell'Ottocento fino anche al Novecento. In più, quello che vorrei aggiungere è che vedremo che in realtà sarà una rivoluzione in chiaroscuro, cioè se da un lato con le macchine, con la nuova modalità di coproduzione, con l'incremento degli standard qualitativi, della velocità di produzione e anche dell'abbassamento magari del prezzo di alcuni beni, si potrà avere a disposizione maggiore disponibilità di merci, di prodotti a buon mercato, però vedremo che perché è un chiaroscuro, perché parallelamente a questo verranno invece a peggiorare le condizioni di vita dei lavoratori, quindi la rivoluzione industriale porterà con sé sfruttamento, assenza di diritti e una serie di condizioni di lavoro ai limiti della sopportazione umana e questo è da un lato quindi migliorano alcuni aspetti della vita, i prodotti girano di più le merci, dall'altro però il lavoro in fabbrica è massacrante e le condizioni di lavoro sicuramente sono peggiori che non prima dell'arrivo della macchina. Dobbiamo capire perché in Inghilterra, perché la prima rivoluzione industriale è una rivoluzione inglese soprattutto, allora in realtà ci sono alcuni fattori che favoriscono l'esplosione di questa rivoluzione industriale proprio in Inghilterra. Allora, prima di tutti in Inghilterra c'era stata una rivoluzione agricola, prima della rivoluzione industriale, ne abbiamo parlato molto nel corso del Settecento, abbiamo osservato le innovazioni che avevano comportato l'enclosures per esempio, la fine degli open fields e delle common lands, abbiamo visto le prime forme di meccanizzazione, di organizzazione, la rotazione pluriannale, ma soprattutto la nascita di una nuova classe sociale, la classe della gentry. La gentry, l'avevamo detto, con il successo, questa rivoluzione agricola, questa grande sviluppo di capacità produttiva, di produttività, aveva incrementato non solo la produzione e le vendite, ma anche la formazione di capitali. Quindi è la gentry che aveva avuto successo con la rivoluzione agricola e che controllava dei capitali, delle plusvalenze agricole, quindi aveva in mano dei piccoli capitali da poter investire, che sarà un volano fondamentale perché è evidente che la rivoluzione industriale potrà essere portata avanti soltanto attraverso l'investimento di capitali. Quando si parla di fabbiche, quando si parla di macchinari, quando si parla di lavoro salariato, quando si parla di organizzare una logistica, una distribuzione, quindi fare, creare una fabbrica, non più il domestic system, ma un sistema strutturato moderno, beh naturalmente ci vogliono investimenti, ma chi li può fare investimenti? Li può fare solo chi ha già dei capitali disponibili, pronti per investire, è anche una mentalità pronta all'investimento, ok? Questa mentalità imprenditoriale è figlia, che è anche aperta alle novità, aperta anche a rischio se vogliamo, è proprio figlia del puritanesimo, della filosofia religiosa che si era imposta in Inghilterra, salvezza calvinista, per cui abbiamo visto come già Max Weber diceva che etica protestante è spirito del capitalismo, proprio lì dove attecchisce la filosofia calvinista protestante è in quel posto che più di tutti c'è lo spirito di intrapresa, lo spirito di rischio, lo spirito di investimento, lo spirito di investimento capitalista, ok? Altro aspetto, in Inghilterra si era ormai diffusa già nel corso del 600 una mentalità empirista, pensiamo ad esempio già da Francesco Bacone in poi, Francesco Bacone che cosa diceva? Che la scienza è potere con la tecnologia, quindi vi ricordate come si fa grande una nazione? La si fa grande con le scoperte, con le invenzioni, con il dominio della natura, come la nuova Atlantide ci aveva interessato, ma anche tutto l'empirismo che studiamo in filosofia, quindi Hobbes, Locke, Hume, sono tutti pensatori che fanno riferimento alla tangibilità della vita, al pragmatismo, al ruolo della conoscenza scientifica, qualcosa che io posso vedere e toccare, ben lontana da un'ottica invece razionalista, più geometrizzante, più anche se vogliamo aperta a istanze metafisiche. C'è la mentalità inglese, insomma, un po' per ragioni religiose, un po' per ragioni filosofiche, era già molto predisposta ad avventure di questo tipo, ad avventure imprenditoriali, di cambiamenti, di innovazioni e di tecnologie, ok? Mi seguite? È chiaro? Altra cosa, la disponibilità di risorse energetiche, è chiaro, non puoi pensare di fare una realtà imprenditoriale con le macchine, con le industrie, se non hai disponibilità di materiale energetico, ad esempio, due su tutti, uno, i corsi d'acqua, le prime fabbriche nasceranno, lo vediamo lungo i corsi d'acqua, perché? Perché sfrutteranno la forza idraulica per far girare questi nuovi macchinari, ma soprattutto la vera rivoluzione ci sarà con l'avvento della macchina a vapore. Ecco, questa macchina a vapore viene alimentata con il carbone e il carbone è una risorsa preziosa, quindi solo un paese ricco di carbone poteva avere facilità nel poter sviluppare delle fabbriche alimentate non più dalla forza animale, ma da forze energetiche. Devi avere insomma degli approvvigionamenti energetici, come un po' oggi potrebbe essere i paesi petroliferi, che hanno questa forma di energia. Ecco, nell'epoca, il petrolio dell'epoca era il carbone, soprattutto il coca, adesso ci arriviamo. E l'Inghilterra ne era ricca, sia di corsi d'acqua, sia di carbone, quindi le forze motrici per far funzionare le macchine. Altro punto, la esistenza, la disponibilità di materie prime. Se io voglio sviluppare l'industria tessile, devo avere grandi disponibilità a basso costo, ad esempio di lana, e questa ce l'avevano perché avevano, diciamo, gli allevamenti di pecore anche in Irlanda e in Inghilterra, e in un secondo momento, soprattutto di cotone, che sarà uno degli, proprio, diciamo, dei materiali fondamentali, ecco, dei prodotti fondamentali della rivoluzione industriale, prodotto simbolo, il cotone. Avevano il cotone, certo, perché proveniva dall'India, proveniva dal Bengala, ma proveniva anche dalle piantagioni americane. Quindi avevano grande disponibilità, grazie al loro impero commerciale già esistente, di materia prima, molto più che altri competitor europei. Allora avete capito che la politica inglese di trascurare le problematiche geopolitiche interne all'Europa e di concentrarsi, diciamo, nelle colonie dove poter far approvvigionare queste materie prime in un momento in cui hai la rivoluzione industriale alle porte, o anzi che è scoppiata e quindi hai le fabbriche che possono iniziare a produrre tantissimo. Se hai tantissima materia prima inizia a, praticamente, monopolizzare il mercato, perché non fai più un pezzetto di tessuto, ma fai milioni di pezzi di tessuto nello stesso tempo in cui un operaio francese, austriaco, che deve lavorare a mano, diciamo, con i telai a mano e ha un'inferiore quantità di materia prima, cioè tu sbaragli completamente il mercato, capite? Quindi là non solo la energia, ma anche la materia prima a basso prezzo, che viene dalle colonie, comprate in grandi quantità, portate dalle navi inglesi, tutto inglese. Ok, queste materie prime arrivano grazie anche al presidio militare, quindi uno Stato che abbia come priorità non tanto combattere le guerre in Europa, quanto aiutare le navi a non essere depredate. La marina inglese, questo fa, aiuta la compagnia delle Indie, vi ricordate? Che sarà poi una delle ragioni di scoppio anche della rivoluzione americana. Disponibilità di braccia lavoro, di mano d'opera a basso prezzo. Ragazzi, se è vero che la rivoluzione agricola aveva arricchito una classe sociale della Gentry, aveva invece tagliato fuori e impoverito i piccoli agricoltori che non avevano più accesso ai territori comuni, ok? Le common land, gli open fields vengono recintati, queste enclosures di fatto sono la rovina per i piccoli agricoltori che finiscono o alle dipendenze dei borghesi della Gentry, dei proprietari terrieri, degli imprenditori agrari, oppure molto spesso, l'abbiamo visto anche con il fenomeno della urbanizzazione, vanno a cercare fortuna nelle città, ok? A questo punto si trovano in una situazione lavorativa di vulnerabilità perché nella città sono esposti un po' alla fortuna, alla sorte del lavoro che riescono a trovare, un'occasione d'oro per chi apre una fabbrica e si trova quindi masse di proletari, di braccianti, di disperati in cerca di lavoro che può naturalmente poter impiegare a un prezzo estremamente ridotto, proprio perché c'è una sproporzione tra la domanda e l'offerta di lavoro, ok? Mi seguite? Quindi un altro fattore è questo, l'esistenza di grandi masse di popolazioni impoverite che erano prima in campagna e sarebbero forse rimaste in campagna, ma si erano trasferite in cerca di lavoro e finiscono quindi nelle neonate fabbriche. Naturalmente questo si sposa con l'incremento demografico che già abbiamo visto nel Settecento, con la domanda interna soprattutto di tessile che era cresciuta, più cresceva la popolazione più cresceva la domanda interna e quindi questo giustificava ancora di più l'investimento perché c'era una certa sicurezza nel rientro, c'era un mercato insomma già pronto, già con una domanda alta di tessile, ok? Soprattutto il cotone. Ora, la rivoluzione industriale ha appunto tre facce, uno il tessile e viene trainata e nascerà all'interno dell'industria tessile, poi una seconda faccia che è quella diciamo del settore invece siderurgico e poi una terza che è quella relativa ai trasporti con l'invenzione diciamo è la diffusione del treno e della ferrovia, ok? Partiamo dal tessile. Allora, in Inghilterra c'era già una diffusa produzione di tessuti, però di lana, ok? Cioè in Inghilterra prima dell'introduzione industriale si usava soprattutto la lana e soprattutto la lana che proveniva dalle pecore inglesi o ricordatevi anche dall'Irlanda che è un paese dove si faceva grande grande uso dell'avevamento. Ok e già dal 600 questa organizzazione della produzione tessile era stata introdotta con un sistema del domestic system, il sistema per cui i mercanti di fatto dotavano le varie famiglie contadine di telai per fare in modo che nelle famiglie si potesse lavorare senza passare dalle corporazioni e da tutelle sindacali strane, si potesse lavorare a basso costo questi prodotti, questa quantità di lana. Nel momento in cui dalla lana si passa al cotone c'è sempre più chiara ed evidente la necessità di una meccanizzazione della produzione, cioè di passare da un domestic system a invece una produzione di fabbrica, una produzione centralizzata, quindi togliere il lavoro dalle singole famiglie contadine e centralizzarlo ad esempio in città, all'inizio le prime fabbriche saranno lungo i corsi di più, successivamente nelle città, luoghi in cui tutti gli operai possano convergere in un unico posto, quindi non è il lavoro che va a cercare le famiglie, ma sono le famiglie che vengono a cercare il lavoro perché nelle fabbriche ci sono dei macchinari, dei macchinari che riusciranno a lavorare molto più velocemente. Ora quali sono le innovazioni? Ce ne sono tante, questa epoca della rivoluzione industriale porta con sé una vera e propria caterva di brevetti e di invenzioni. Le prime riguardano la filatura, le seconde la tessitura. Allora voi sapete che cos'è la filatura? La filatura è la produzione del filo, il filo che viene poi usato successivamente per tessere, fare dei tessuti che sono fatti di ordito e di trama, quindi sostanzialmente incrociano n volte uno stesso filo, ok? Questo credo che siano delle nozioni base che conosciamo tutti, no? Abbiamo dei maglioni che sono fatti da migliaia e migliaia di fili intrecciati, come prima cosa bisogna produrre questi fili, seconda cosa bisogna intrecciarli e creare dei tessuti. Ora, non entro nel merito, è molto interessante ma non c'è tempo, in realtà la filatura e la tessitura hanno avuto momenti in cui alcune invenzioni hanno potenziato la filatura e quindi un solo operaio riusciva a produrre tantissimi fili, ok? Un solo operaio ad esempio a fine secolo, alla fine del Settecento, da solo produce cento fili, ok? Quindi cento fusi, mentre nel 1770 al massimo ne poteva gestire otto, quindi si passa da un operaio che fa contemporaneamente otto fusi a un operaio che ne fa cento. Quindi, visto che le prime invenzioni avevano molto ampliato la capacità produttiva di fili, c'era una specie di strozzatura in queste fabbriche perché si producevano molti fili ma poi i telai erano lenti a incrociarli, a creare i tessuti e per cui, per questa ragione proprio, a un certo punto nel 1787 c'è un'invenzione fondamentale, importantissima, cioè il telaio meccanico di Cartwright del 1787. Il telaio meccanico rivoluziona l'industria tessile perché a questo punto non serve l'intervento umano per far funzionare un telaio, ma il telaio è completamente meccanizzato, cioè si inseriscono i fili e da sola questa macchina crea i tessuti. Questo ha una conseguenza gigantesca a livello di lavoro. Perché? Perché a questo punto si possono creare con il telaio meccanico delle fabbriche che non sono presso le famiglie ma proprio, abbiamo detto, presso delle zone che possono essere lungo i fiumi o successivamente in città, dove gli operai vengono salariati, quindi vengono pagati con dei salari a seconda delle ore lavorate e sono questi operai, diciamo, impiegati nel far funzionare al meglio le macchine. Cioè non è più una macchina che aiuta e migliore il lavoro dell'operaio, ma l'operaio che è impiegato per evitare ad esempio che la macchina si inceppi o per fare alcune operazioni che ancora non sono meccanizzate. Ma visto che questo tipo di lavoro non è un lavoro che ha bisogno di grande preparazione o di forza fisica, verranno impiegate nelle fabbriche tessili soprattutto donne e bambini perché si potevano pagare molto meno dei colleghi maschi, estremamente meno. Quindi non è questo, ragazzi, un primo tentativo di emancipazione della donna o di ingresso della donna al mondo del lavoro né tantomeno dei ragazzini. Non c'era nessun tipo, assolutamente nessun tipo di priorità morale, di emancipazione o politica. C'era solo mera convenienza economica, costavano pochissimo le donne e bambini, già costavano poco gli operai, costavano ancora meno le donne e bambini. Ma le donne e bambini avevano la caratteristica di avere delle mani più sottili e quindi adatte a risolvere gli inceppamenti dei telai. Cioè il lavoratore diventa non tanto quello che produce la stoffa, ma quello che evita che la macchina si inceppi. Attenzione che questo lavoro era delicatissimo ed era pericolosissimo perché non c'erano dei sistemi di protezione. Alle volte queste manine che stavano lì a cercare di togliere i figli e di far ripartire le macchine venivano purtroppo ferite dalla macchina stessa, con gravi conseguenze per i ragazzini, per i lavoratori, che non erano peraltro assolutamente coperti da nessuna assicurazione né diritto di nessun tipo. Pensioni, assicurazioni, infortuni, non c'era niente di tutto questo, era il loro rischio e pericolo. Il datore di lavoro non aveva nessuna responsabilità. Quindi capite bene le condizioni di lavoro. Quindi questo è quello che succede nel tessile. Il risultato è che naturalmente l'industria tessile inizia a sfornare una quantità di tessuti mai vista prima che invade il mercato, sbaraglia la concorrenza degli artigiani. Un artigiano si ritrova ad avere il lavoro letteralmente rubato, letteralmente annientato. Un artigiano riusciva a fare dieci pezze, non so, dieci rotoli di cotone in un mese, la fabbrica lo fa in mezz'ora e quindi riesce a vendere cotone addirittura migliore di quello fatto a mano e a metà della data del costo, magari è un costo in effetti inferiore. Quindi attenzione che ne faranno le spese tutti gli artigiani che avevano una propria bottega e si vedono arrivare questi imprenditori, queste grandi fabbriche, queste macchine e non c'è più concorrenza. Secondo, industria siderurgica. Questa è importantissima che cambierà la faccia, diciamo anche delle costruzioni, delle abitazioni, delle ferrovie. Tutto poi funzionerà con il ferro, ma in realtà non è il ferro, il protagonista, è la ghisa. La ghisa è un composto di ferro e carbonio e viene prodotta negli alti forni. Ora, già da prima della rivoluzione industriale l'Inghilterra e altri paesi, soprattutto l'Inghilterra, produceva ghisa. È un elemento molto resistente, ha molte proprietà, diciamo, che viene usato nell'edilizia, viene usato per molte cose, per fare veramente un po' tutto, e veniva quindi già prodotto. Il problema qual è? È che, visto che veniva prodotto a temperature basse perché il carbone che si usava non era di buona qualità, la ghisa stessa che usciva fuori prima della rivoluzione industriale non era di buona qualità. E quindi la rivoluzione avvenne quando si iniziò a usare il carbon fossile. Il carbon fossile, che viene poi, diciamo, bruciato a grandi temperature e diventa COC, ok? Quindi il COC è un derivato del carbon fossile. Negli alti forni, alle alte temperature, combinandosi con il ferro, riesce a produrre una lega di qualità nettamente migliore, più resistente e con qualità migliori, e quindi la nuova ghisa, la ghisa della rivoluzione industriale, che deriva dall'unione del COC con il ferro, di fatto ha un successo incredibile per costruire tutto ciò di cui c'è bisogno. Ha resistenza, ha capacità di tenere il calore, insomma è un materiale eccezionale, ok? E quindi vicino alle miniere di carbone nascono dei grandi impianti estrattivi e siderurgici, ok? Si viene a estrarre il carbone e si crea proprio vicino alla miniera di carbone l'industria siderurgica, ma la richiesta di carbone ragazzi è sempre più ampia. Perché sempre più ampia? Perché servirà, diciamo, trasportare questo carbone ovunque serva per poter produrre nuova ghisa, ma anche in futuro, adesso ci arriviamo, per alimentare le macchine a vapore, ok? Quindi l'invenzione della macchina a vapore, che adesso vi dico in un punto separato, sarà un ulteriore motivo per la necessità di estrarre e commercializzare carbone. Come si fa quindi a commercializzare il carbone? Beh, la prima risposta è quella dei canali, cioè sfruttiamo i canali navigabili, ok? O laddove non ci sono, ne costruiamo di nuovi, ok? Costruire, incrementare la rete di comunicazione, quindi venivano caricate le navi di carbone e passavano dalla parte all'altra dell'Inghilterra. Proprio lungo questi canali e questi fiumi vengono costruite le fabbriche. Perché? Perché naturalmente sia è più facile poter commerciare quando la produzione è vicino al canale stesso, no? Si produce e si scarica nella nave che porta via con il fiume il prodotto. Sia anche è più facile poter sfruttare la forza idraulica, perché queste macchine all'inizio funzionavano non con un motore, ma con il motore, diciamo, dell'acqua, cioè la forza dell'acqua, come fossero un mulino, ok? La forza dell'acqua faceva girare questo mulino e il movimento del mulino azionava questi telai, queste macchine e tutte le meccanizzazioni che erano necessarie, ok? Ora, nel 1769, brevettata poi qualche anno dopo, nel 75, James Watt inventa una macchina veramente rivoluzionaria che cambierà completamente la storia umana, cioè la macchina a vapore. La macchina a vapore è un meccanismo, un insieme anzi di meccanismi, che sfruttando la combustione del carbone genera il vapore, la pressione del vapore muove dei pistoni che a loro volta generano questo movimento che all'inizio, ragazzi, prima ancora dell'invenzione della macchina a vapore, diciamo c'è un suo antenato che è la macchina di Newcomen, si chiama, ed era un movimento verticale, serviva, nasce la prima macchina di questo tipo, che sfrutta appunto l'energia termica, proprio all'interno delle miniere, per svuotare, come una pompa idraulica, che serviva a svuotare le miniere, quindi un motore che però ha questo movimento verticale. Invece Watt inventerà una macchina che è in grado di fare appunto un tipo di meccanismo circolare e quindi questo meccanismo, perfezionando quindi la macchina di Newcomen e brevettando questo nuovo macchinario, verrà applicato a tutto, cioè nel senso che quando si dovrà produrre qualcosa, movimento, ok, potrà essere utilizzato non semplicemente l'acqua del fiume, ma anche un'energia meccanica dovuta alla combustione del carbone. Qual è la conseguenza ragazzi dell'applicazione nelle fabbriche della macchina a vapore? È rivoluzionaria, non devo più come imprenditore pensare a realizzare la fabbrica vicino, attaccato al corso d'acqua. Posso far alimentare le macchine da macchine a vapore, i miei macchinari da macchine a vapore e quindi trasferire le fabbriche in città, in città dove c'è la mano d'opera, hai capito? Quindi ci si emancipa dalla prima costruzione delle fabbriche lungo i corsi d'acqua ai fiumi, si trasferiscono le fabbriche in città dove c'è un vantaggio competitivo, grandi masse di proletari, di braccianti, di gente in cerca di lavoro che possono quindi essere pagati molto meno ed essere tutti centralizzati e quindi evitare la stagionalità. Alcuni fiumi per esempio erano in piena durante un periodo e in un altro periodo la forza del fiume era molto inferiore, invece la macchina produce allo stesso ritmo tutto l'anno, 24 ore su 24, mi seguite? È una forza motrice indipendente dalla natura che io creo artificialmente. Certo, ho bisogno di grandi quantità di carbone in città, quindi si sviluppa il cosiddetto sistema di fabbrica. Che cos'è il sistema di fabbrica? Allora, intanto abbiamo detto che è caratterizzato dalla meccanizzazione della produzione, quindi la produzione in fabbrica è meccanizzata, ci sono tutte queste macchine, molte altre non ne abbiamo parlato, ma è inutile andare a approfondire, avete capito qual è il concetto. Tutti i prodotti vengono meccanizzati, soprattutto di queste industrie, tessile, siderurgica. Le vie di comunicazione, così come i corsi d'acqua erano delle eccellenti vie di comunicazione, anche le città vengono scelte perché erano notoriamente quelle dotate di migliori strade, insomma, linee di comunicazione. E poi necessità di concentrare la forza lavoro. Io la forza lavoro la devo concentrare, far lavorare tanto, quindi loro devono vivere tutti vicino alla fabbrica, perché altrimenti io avrei difficoltà ogni giorno a reperire tutti questi operai. Io voglio che gli operai lavorino quasi tutto il giorno, ragazzi lavoravano oltre 15 ore al giorno in fabbrica e tornino poi nelle loro case a dormire per poi rientrare presto il giorno dopo a lavorare, mi seguite? Quindi è chiaro che la città è ideale, perché? Perché può assorbire a livello anche abitativo delle grandi massi di operai pronti sempre alla bisogna di rientrare in fabbrica. Quindi, cosa è basata l'economia della fabbrica? La prima, il discorso della divisione del lavoro, più si andrà avanti e più il lavoro sarà segmentato, questo nascerà con la prima rivoluzione industriale ma sarà esplosivo e fondamentale nella seconda rivoluzione industriale, quando nascerà nella seconda rivoluzione industriale la catena di montaggio. Comunque il lavoro è diviso, perché? Perché la macchina ha determinati fabbisogni, è la macchina al centro, quindi ci sarà chi carica la macchina, chi la scarica, chi risolve, diciamo, i problemi e quindi la fa ripartire, il lavoro è suddiviso. Terzo fattore, l'urbanizzazione, questo sistema funziona nel momento in cui ho grandi masse che stanno accorrendo dalle campagne alla città, devo avere masse da sfruttare, da utilizzare in fabbrica, non solo maschi ma anche donne e anche bambini e quindi naturalmente la nascita contestuale di due nuove classi sociali. La borghesia che sono sostanzialmente gli imprenditori che grazie ai capitali investono tutti questi soldi, devono creare la fabbrica, comprare le macchine, comprare la materia prima, comprare il carbone, pagare gli operai, tutto questo è sulle spalle degli imprenditori che rischiano ovviamente il proprio denaro per creare tutto ciò, ma poi grazie allo sfruttamento del lavoro degli operai che vengono praticamente sfruttati fino alla fine, pagati una miseria, riescono a ottenere un grande vantaggio economico, quindi il sistema della fabbrica sicuramente piace agli imprenditori. Il sistema di fabbrica è indubbiamente un sistema molto favorevole per gli imprenditori, moltiplica la produttività e concentra il lavoro in luoghi come le città, le fabbriche all'interno delle città che permettono un controllo capillare da parte dell'imprenditore sui tempi, sulla manutenzione stessa dei macchinari, quindi semplifica la convenzione dei macchinari e c'è un maggiore e più capillare controllo ovviamente del lavoro degli operai, che abbiamo detto entrando nel circuito della fabbrica entrano in un nuovo mondo del lavoro in cui effettivamente la cosa diciamo più rilevante è il fatto che passano da avere una gestione autonoma, libera, sebbene ovviamente anche la gestione precedente fosse indubbiamente condizionata poi da eventi esterni, dalla stagionalità, insomma pensate il lavoro nella campagna, però ecco il domestic system che era il sistema pre-industriale diciamo così prevedeva una diversa distribuzione dei tempi e una maggiore capacità per le famiglie di gestire ad esempio il lavoro nei campi piuttosto che il lavoro in casa. Trasferirsi in città e entrare in fabbrica cambia radicalmente la vita dei diciamo dei proletari che si trovano a essere salariati di fatto quindi a stretta dipendenza dell'imprenditore. Quindi se il sistema di fabbrica ha dei vantaggi, la rivoluzione industriale porta a un'esplosione di produzione, questi prodotti a più basso costo, questa invasione del mercato di merci lavorate dall'altro comporta purtroppo un grave peggioramento della vita, delle condizioni di vita dei lavoratori, delle fabbriche, degli operai, dei cosiddetti proletari. Perché? Allora innanzitutto immaginiamo che i turni di lavoro sono massacranti, si parla di turni di lavoro fino a 15 ore al giorno, quindi la vita di un operaio nelle città, immaginiamoci Manchester, Liverpool, Londra, tutte queste città che esplodono, diventano gigantesche, si creano questi grandi quartieri operai e la vita degli operai è sostanzialmente una vita di lavoro all'interno della fabbrica con pochissimo tempo dedicato al riposo per poi ritornare nuovamente in fabbrica, sei giorni su sette. Non ci sono ferie, non ci sono diritti sindacali, non sono ancora stati inventati neanche i sindacati, non ci sono assicurazioni, non ci sono pensioni per la vecchiaia, non ci sono tutele di nessun tipo, il coltello è totalmente dalla parte del manico dell'imprenditore. Questo perché? Perché c'è uno sbilanciamento tra la domanda e l'offerta. È evidente che queste grandi masse proletarie, masse di mano d'opera, di ex braccianti, travolti dalla rivoluzione agricola che si sono trasferiti in città, naturalmente sono disponibili a offrire la propria forza lavoro più o meno a qualsiasi condizione. Una testimonianza anche nella letteratura per esempio è sicuramente data da Oliver Twist di Dickens. Charles Dickens ha dedicato alcuni romanzi molto chiari, molto anche toccanti sulle condizioni di vita per esempio dei ragazzini all'interno della fabbrica. Abbiamo visto infatti che nel tessile c'è ampio spazio per il lavoro femminile e il lavoro minorile anche esso estremamente sfruttato. La paga naturalmente è molto bassa proprio perché c'è un sbilanciamento a favore dei datori di lavoro. Il datore di lavoro pone queste condizioni così squilibrate, così ingiuste, se il lavoratore accetta allora potrà lavorare, altrimenti sarà facilmente sostituito da un altro lavoratore. Questo perché? Perché abbiamo detto, lo ripetiamo, che il lavoro meccanizzato è un lavoro ampiamente squalificato, è un lavoro massificato, è un lavoro, Marx lo definirà alienato, cioè si toglie dalle mani, dalla testa, dal know-how, dalla professionalità dell'operaio il controllo del lavoro. Le macchine funzionano quasi da sole, c'è bisogno di una supervisione, naturalmente c'è bisogno di un lavoro di carico, di scarico, abbiamo detto per esempio all'interno del tessile di mani che più che altro debbono risolvere i problemi delle macchine, però non c'è veramente un protagonismo da parte degli operai, non c'è una specializzazione, non c'è ancora, ci sarà nel tempo, poi nasceranno gli operai specializzati, anche il mondo delle fabbriche dell'industria cambierà, però in questo primo momento sembra veramente una grande spaccatura tra il mondo degli artigiani e il mondo delle fabbriche. Parallelamente al peggioramento delle condizioni di vita degli operai si crea anche un fenomeno molto grande, molto importante di urbanizzazione, perché naturalmente abbiamo detto le fabbriche con l'invenzione della macchina a vapore si spostano dai fiumi verso le città e quindi spostandosi verso le città vanno a intercettare queste grandi masse operaie e queste città diventano a loro volta nuovamente poli attrattivi per l'urbanizzazione, per l'immigrazione delle campagne. C'è l'illusione che con la nascita delle fabbriche ci sia lavoro per tutti, tutti possono avere una prospettiva di trovare un lavoro sicuro, anche se appunto sono prospettive molto illusorie, abbiamo detto che le condizioni di lavoro sono estreme, si creano quindi in queste città inglesi, Manchester, Liverpool, Londra eccetera eccetera, dei veri e propri quartieri operai, cioè le persone si ammassano diciamo sostanzialmente in quartieri che vengono velocemente costruiti per ospitare questi nuovi abitanti, ma sono quartieri veramente privi di servizi, le condizioni di vita sono malsane, sono tutti diciamo veramente vivono l'uno attaccato all'altro, non ci sono le fognature, cioè immaginate l'esplosione veloce di questi quartieri operai assolutamente privi di una regolazione, di una infrastrutturazione, non ci sono le strade, non c'è l'acqua potabile, insomma sono anche le condizioni al di fuori della fabbrica voglio dire, nella vita che rimane da vivere in famiglia sono condizioni molto misere, molto molto dure e quindi naturalmente si va verso anche l'alienazione sociale, casi quindi di diffusione di alcolismo, di malattia mentale, è molto duro questo passaggio dal mondo diciamo rurale a quello cittadino, a quello della città, proprio perché nel mondo rurale la povertà, il disagio sociale poteva essere gestito, immaginate un contadino, in una comunità c'è sempre chi può aiutare, c'è sempre come dire una rete di protezione familiare, una rete di protezione di amicizia, ok? Spesso prima dell'enclosure c'erano molte terre in comune, c'era insomma possibilità di fare comunità, le famiglie abbiamo visto nel 700, nel 700 in poi sono famiglie mononucleari, c'è la mamma, c'è il papà, i figli e non hai aiuti esterni, ok? Se perdi il lavoro sei tagliato fuori, se ti fai male al lavoro sei tagliato fuori, i ragazzini non riescono ovviamente a fare altro che piccoli lavoretti e non c'è diciamo un grande investimento sull'educazione, arriverà solo nel corso dell'800, ok? Nascono quartieri un po' disordinati, negozi, bancarelle, mercati coperti, ok? E l'immagine che voi dovete avere è quella del carbone, di queste grandi città, l'avete forse visto anche in qualche quadro dell'800, che sono assolutamente invase dallo smog, no? Questa colpre di fumo, di nebbia che si deposita diciamo a forza di bruciare carbone, ecco che caratterizza un po' questo grigiore ecco dell'Inghilterra, dell'inizio dell'800. Quindi luce e ombre, da un lato è chiaro che andiamo verso la modernità, verso l'economia capitalista, verso l'economia di consumo, verso il commercio internazionale, verso la globalizzazione, verso tutto questo, dall'altro capo però chi ne fa le spese sono soprattutto le famiglie operaie che vedono precipitare nell'abisso la loro qualità della vita, che già comunque era una qualità sofferta diciamo e non per come dire fantastica già nella crisi delle campagne da cui provenivano. Finiscono come si può dire dalla padella alla braccia. Un altro problema molto grande è il problema della concorrenza rispetto agli artigiani, cioè i primi a vedere un enorme problema a livello di lavoro rispetto all'entrata in esercizio dell'economia di fabbrica sono naturalmente gli artigiani. Gli artigiani sono colpiti direttamente dall'esplosione della produzione industriale. Perché? Perché naturalmente non possono competere con le nuove fabbriche. Un operaio, un artigiano produce 20 volte in meno di un operaio, più o meno questa è la razza, di 1 a 20. Cioè un operaio anche non specializzato riesce ad avere una capacità produttiva di 20 volte maggiore rispetto a un artigiano che magari fa quella stoffa secondo una modalità appunto artigianale più manuale con i telaio ancora a mano rispetto al telaio meccanico. Non ne parliamo quando poi parliamo sul siderurgico, sul metallurgico, lì è ancora più grande il vantaggio di usare dei macchinari rispetto al lavoro manuale. E quindi iniziano proprio verso la fine del Settecento i primi movimenti di protesta rispetto a questo grande e velocissimo cambiamento economico-sociale. I primi proprio a ribellarsi non sono tanto gli operai ma sono proprio gli artigiani che iniziano insieme anche agli operai a capire che in questa trasformazione c'è qualcosa che non va. Sembrerebbe che tutto il vantaggio sta andando nelle mani dei capitalisti, degli imprenditori, dei proprietari di fabbrica e tutto lo svantaggio si sta invece addensando sulle spalle degli operai e soprattutto degli artigiani. Nascono quindi dei movimenti di protesta? Il più famoso tra questi, il primo tra questi è il cosiddetto luddismo. Che cos'è il luddismo? L'avrete forse già sentito parlare, si usa ancora oggi. Quando qualcuno è contrario alla tecnologia e odia le macchine si dice tu sei luddista. Perché si parla di luddismo? Beh perché questo nome di questo movimento di protesta deriva da una figura Ned Ludd, Ned Ludd scritto, che non si sa bene peraltro se sia realmente esistito, se sia una figura leggendaria. Si attribuisce a questo Ned Ludd l'inizio di una protesta molto forte, molto violenta nei confronti dei macchinari delle fabbriche. Attenzione, non contro le fabbriche o contro il lavoro di fabbrica ma contro la macchina. Cioè il primo nemico che gli artigiani ma anche gli operai iniziano a vedere non è tanto il sistema capitalistico, il sistema imprenditoriale, il sistema della fabbrica con l'imprenditore che compra, che vende, che di fatto paga il tuo lavoro a giornata. Quanto piuttosto nella macchina. La macchina è il nemico. L'arrivo della macchina ha comportato ad esempio l'abbattimento, la fine, la crisi del lavoro artigianale. Mi seguite? E quindi andiamo a distruggere le macchine nelle fabbriche. Ripristiniamo una economia basata sul lavoro manuale, più giusta, più equa. E chiaramente questi tentativi, si parla del 1779, verranno repressi duramente dal governo inglese, addirittura con massacri e con l'applicazione della pena di morte. Pensate, oggi ci sembra veramente un'esagerazione, come uno entra in una fabbrica e distrugge delle macchine, la condanna a morte. Ecco, questo era, poi venne ritirata, diciamo così, questa proposta di mettere processi e condanna a morte per tutti i rivoltosi, però di fatto questo serviva a spaventare, a soffocare la nascita di questi, diciamo, di questi movimenti di protesta. Comunque venne repressa duramente questa, diciamo, protesta. Ne seguirono altre. Dedicheremo una puntata a parte sui movimenti operai, sulla nascita dei sindacati, perché insomma è un racconto interessante, ma è ricco, diciamo, di ulteriori dettagli che vale la pena affrontare a parte. Però, ecco, segnatevi, già ne avevamo parlato, questi primi anni dell'Ottocento sono caratterizzate proprio da questo tentativo di rivolta, anche violenta, rivolta, incontrollata, ancora non pilotata, non, diciamo, gestita a livello, come dire, sindacale, organizzato con i partiti, con le teorie politiche, ancora, come dire, un po' di pancia, che porterà però, ad esempio, nel 1819, nel 1819 a Manchester, addirittura a portare un grande massacro nella piazza di St. Peter, venne dalla polizia inglese, vennero caricati con i cavalli, diciamo così, per disperderli questi operai che protestavano, stavano facendo uno dei primi comizi della storia, vennero, diciamo, trattati senza nessun tipo di rispetto o di cautela e questa carica a cavallo lasciò diversi morti per terra, diciamo così, e quindi questo massacro di St. Peter è proprio il segnale di come qualcosa si sta lacerando nella società inglese, luci e ombre e questi primi movimenti di rivolta, però, li affronteremo meglio in seguito perché poi non si fermeranno semplicemente alla rivolta violenta, ma si via via organizzeranno in strutture sempre più ampie, perché avete capito che il sistema di fabbrica ha questo, diciamo, contro, che se è vero che crea quartieri dove sono tutti gli operai, sistemi dove tutti gli operai sono insieme, inizia anche a creare una coscienza di classe, gli operai iniziano a parlarsi, iniziano ad avere gli stessi problemi, iniziano a parlare la stessa lingua, iniziano a capire di essere divisi ma in fondo uniti rispetto a una situazione comune, ok? E questo sarà proprio la nascita di una serie di anche ideologie nel corso dell'Ottocento, come ad esempio l'ideologia socialista che proprio si baserà sull'individuazione di questa lotta di classe come motore proprio della storia e la coscienza di classe come il momento fondamentale per poi lo sviluppo di, diciamo, movimenti più strutturati di protesta, che poi, diciamo, culmineranno, lo sappiamo, un anno simbolo, sarà il 1848, quindi molto più in là, verso la fine della rivoluzione industriale, della prima rivoluzione industriale. Finiamo con l'ultimo argomento, la fase finale della rivoluzione industriale vede l'invenzione del treno, anzi più esattamente l'applicazione del motore a vapore alla locomotiva e anche però l'applicazione del motore a vapore ai battelli, diciamo così, quindi vede la nascita del treno, ok? Il treno fu inventato nel 1814 da George Stevenson, un inglese, rivoluzionerà completamente la società, i trasporti, adesso lo vediamo, ma anche più o meno parallelamente un americano applicherà invece il motore a vapore ai battelli, ok? E quindi verrà inventata, diciamo, il battello a vapore. Entrambe queste invenzioni sono invenzioni che cambiano completamente le prospettive, sia via terra, sia invece ad esempio via mare. Il battello a vapore gli americani lo inventeranno per velocizzare gli scambi sia all'interno dei grandi fiumi americani, ma soprattutto nell'Atlantico, tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra e l'Europa. La locomotiva nasce, il treno nasce soprattutto all'interno di una, diciamo, di un'economia basata proprio sull'utilizzo del carbone e dell'ottimizzazione dei commerci della miniera. È chiaro che bisogna trovare un modo agile per far comunicare le industrie siderurgiche e le zone di estrazione del carbone. Bisogna portare il carbone da una parte all'altra, ma bisogna anche portare da una parte all'altra la ghisa. Sono materiali pesantissimi, sono materiali, diciamo, difficilmente trasportabili. Pensate, il peso di tonnellate di ghisa, no? Non è che si può pensare a un trasporto a cavallo, cioè ci vorrebbero delle grandi carrozze, infatti era così prima, però ecco, l'invenzione del treno viene trainata proprio dalla necessità di spostare velocemente queste grandi masse di prodotti lavorati così pesanti e anche il carbone che abbiamo detto era diventato un po' come oggi la benzina, cioè la base di funzionamento di tutto. Ecco, allora sono soprattutto gli industriali a sviluppare le ferrovie in Inghilterra. Cioè sono gli industriali a pagare, di tasca loro a investire per sviluppare, grazie al fatto che c'era la ghisa, costruire queste grandi infrastrutture, queste ferrovie, queste strade ferrate che via via tagliano le campagne, congiungono le città e di mettere su questi grandi treni che vanno oltretutto essi stessi a carbone. Il treno rappresenta, diciamo, il prodotto, l'oggetto, simbolo della rivoluzione industriale. Perché? Perché c'è dentro tutto, diciamo, c'è la, è fatto di ghisa e quindi è fatto del materiale più importante che è stato scoperto, diciamo, in questo periodo, è stato prodotto in questo periodo e perché funziona col motore a vapore e il carbone. Quindi sostanzialmente è, come dire, proprio l'oggetto che racchiude un po' le novità, le grandi novità della rivoluzione industriale. Naturalmente il treno nasce come mezzo di trasporto merci, ma molto presto ci si renderà conto che è possibile anche far trasportare via treno le persone e questo cambierà completamente la percezione delle distanze, dei tempi necessari per una persona, per spostarsi, per quindi poter fare dei viaggi, viaggi di lavoro, viaggi anche se vogliamo, chi se lo può permettere di piacere o, diciamo, conoscere meglio, comunicare meglio tra di loro le città. Questo accorcia moltissimo, avvicina moltissimo le città. Facciamo un esempio. Se prima da Londra fino a una distanza, diciamo, intermedia tra Londra ed Edimburgo, quindi fare metà della lunghezza dell'Inghilterra, no? Sapete che è fatta un po' stretto e lunghe l'Inghilterra. Ecco, ci volevano 30 ore, dopo con l'invenzione del treno, da Londra fino a quasi Edimburgo, 10 ore. Quindi se prima, per fare metà strada tra Londra ed Edimburgo ci volevano 30 ore, in futuro per fare, diciamo, quasi tre quarti della strada, la ferrovia arriva quasi fino a Edimburgo, ce ne volevano 10. Quindi sostanzialmente si abbattono completamente i tempi di percorrenza. Questo cambia tutto a livello anche di costo, di commercializzazione. Un conto è mettere dei prodotti che ci mettono mesi ad arrivare sul mercato. Un conto è mettere sul treno dei prodotti che arrivano il giorno dopo, tre o due giorni dopo sul mercato. Hai immediatamente una possibilità di invadere il mercato e commerciare. Ok? Questo naturalmente, con i battelli a vapore, sarà ancora più importante nei commerci internazionali. Sono navi che vanno veloci, navi che ti garantiscono di arrivare, diciamo, presto a destinazione e quindi riuscire a, come dire, collegare sia le persone che le merci, ad esempio, dai due lati dell'oceano. La fase finale della rivoluzione industriale, questa che vede anche la diffusione delle ferrovie, l'esplosione, se vogliamo, dell'industria pesante, viene appoggiata anche politicamente da un cambiamento nel governo inglese. Perché se vi ricordate, il primo periodo c'erano i Tories, che invece erano sostanzialmente protezionisti, bloccavano un po' le esportazioni, quindi sembravano quasi andare controcorrente rispetto ai fabbisogni della classe industriale, invece dal 32 in poi ci sono al potere i WIGS, diciamo, il partito liberale, che invece al contrario attua una politica liberista, quindi abolisce i tazzi sulle merci e effettivamente incentiva il libero scambio. Ok? E questo naturalmente sarà la, come dire, la consacrazione finale della centralità dell'Inghilterra, questo governo che finalmente si rende conto di aprire, aprire le merci, aprire i commerci e far sparire i tazzi. Invece l'Europa, ma l'Europa perché non segue anche l'Europa subito l'effetto della rivoluzione industriale, non si industrializza così velocemente come l'Inghilterra? In Europa mancavano le condizioni di partenza che abbiamo visto invece c'erano in Inghilterra, non c'era stata la rivoluzione industriale come in Inghilterra, non era applicata dappertutto la rotazione pluriennale, non era quindi presente in modo così evidente e in tutta l'Europa, ma solo in alcuni pezzetti, un po' a macchia di lopardo, una classe sociale di imprenditori agrari con i capitali, ok? Con dei capitali privati. Non c'erano questi accumuli di capitali privati in mano a pochi borghesi. Non c'erano come in Inghilterra dei grandi imperi coloniali, quindi le materie prime. E poi non c'era anche una stabilità, ragazzi, politica come in Inghilterra. Abbiamo visto tutte le guerre si sono svolte in Europa, pensate alla rivoluzione francese, pensiamo a Napoleone, ok? Invece l'Inghilterra ha avuto un governo dopo la gloriosa rivoluzione, c'è stata una certa stabilità politica, ok? Poi c'è un'alternanza tra conservatori e liberali, però comunque sia ci sono state tutte queste rivoluzioni violente, questi cambiamenti, questi contrasti, questi conflitti. Quindi una maggiore stabilità politica è mancata, che invece c'è stata in Inghilterra, ha favorito l'Inghilterra, invece questa stabilità è mancata in Europa, ok? E poi ragazzi, in Europa esistevano ancora sparpagliati elementi di ansia regime, elementi come i dazi interni, vi ricordate quanto hanno faticato le potenze europee a togliere i dazi? Vi ricordate tutto quello che abbiamo studiato nel corso dell'illuminismo? Quindi sono più in ritardo rispetto a quello che era già stato realizzato in Inghilterra, ok? Tanto che l'Europa nel corso dell'Ottocento sarà colpita da alcune carestie, una in particolare molto importante da segnare sicuramente è quella del 46-47 che colpì non solo l'Europa, ma anche l'Inghilterra e soprattutto l'Irlanda, questa carestia sarà così grave che uno sarà una delle ragioni di scoppio poi della rivolta e delle rivoluzioni nel 1848, ok? Questo grande aggravamento della situazione. Ma nel 46-47 pensate su 9 milioni di irlandesi, un po' i cugini poveri degli inglesi così venivano considerati, erano effettivamente, come dire, prevalentemente agricoltori, pastori, le pecore, insomma, venivano diciamo allevate in Irlanda, in quel momento erano solo 9 milioni, ecco un milione morirà di fame durante quest'anno, su 9 milioni un milione di irlandesi morirà e quindi? E quindi questo è l'anno della massiccia emigrazione degli irlandesi verso gli Stati Uniti. Quindi quando noi vediamo quei film dove a un certo punto, tipo Gangs of New York per esempio, arrivano gli irlandesi, cattolici, no? Che cambiano tutto perché? Perché vi ricordate che l'emigrazione era stata diciamo soprattutto anglicana o piuttosto puritana e qui invece a un certo punto a metà dell'Ottocento arrivano forti ondate cattoliche, ok? Irlandesi. Comunque anche l'Europa alla fine viene toccata e interessata dalla rivoluzione industriale, in particolare direi dagli anni 40-50 in poi, quindi veramente verso il fanalino di coda, verso la fine del periodo che abbiamo individuato come prima rivoluzione industriale. Non tutta l'Europa, ma alcune zone. Allora sicuramente il Belgio, le prime zone a industrializzarsi sono il Belgio e tutta quella zona quindi davanti alla Manica, ecco, davanti proprio all'Inghilterra, la zona della Rur, quindi nella Prussia, la zona della Rur, quella diciamo del Reno, quella che vi ho già detto è ricca di miniere, ecco quindi lì dove sono presenti miniere di carbone eccetera eccetera, la zona francese dell'Alsazia Lorena, quella appunto proprio vedete sempre più o meno nella stessa area di confine tra la Francia e la Germania stessa, in Spagna c'è qualcosa nel nord, soltanto nel nord, la costa atlantica, quella che guarda sempre verso l'Inghilterra, diciamo dove oggi ci sono i paesi baschi, Santander, Bilbao o per esempio la Galizia. Poi in Austria qualcosina, in Bohemia per esempio, la Bohemia si industrializza, quindi le zone vicino Praga e questo insomma un po' a macchia di leopardo in alcune aree europee, ma non massicciamente e tutto insieme come in Inghilterra. Ancora più in ritardo invece la zona sud dell'Europa e la zona est dell'Europa che rimane effettivamente forse tagliata fuori in questo primo periodo e avrà la sua industrializzazione nella seconda rivoluzione industriale, quindi verso la fine dell'Ottocento. La prima ferrovia italiana, pensate la Napoli Portici del 1839 nel regno delle due Sicilie, quindi pensate è nel sud Italia che vengono i primi grandi investimenti sul fronte ferroviario. La Germania inizia la costruzione della ferrovia nel 1835, quindi vedete un po' sul tardi, quindi nel 1870 la rete ferroviaria europea passa dai 3.000 km, 1840, a 80.000 km, quindi vedete che verso la fine dell'Ottocento il gap si riduce. Tra gli anni 50, 60, 70 dell'Ottocento anche in Europa inizia veramente a essere costruita una rete infrastrutturale ferroviaria importante. Gli Stati Uniti anche sono parallelamente all'Europa un po' in ritardo, ma recuperano questo gap perché passano ad esempio in questo stesso periodo tra il 1840 e il 1870 da 4.000 km di ferrovia a 50.000 km. Gli Stati Uniti peraltro in questo periodo osservano una grande crescita anche territoriale, l'Ottocento è il secolo della loro grande espansione, abbiamo visto l'acquisizione nel 1803 della Louisiana, 1819 la Florida e gli Stati Uniti saranno veramente nell'Ottocento interessati da un impetuoso sviluppo industriale. La domanda interna è molto forte, le risorse energetiche in America sono abbondanti, c'è carbone in grande quantità, pensate che l'estrazione del carbone nell'Ottocento si moltiplica per 40 volte negli Stati Uniti, quindi questa domanda ferroviaria, di infrastrutturazione spinge tantissimo l'estrazione minerale, 40 volte è tantissimo e vengono importati dall'Europa tecnici, quindi c'è anche questa immigrazione di qualità, ingegneri verso gli Stati Uniti e uno dei simboli è nel 1825 il canale Erie, che dai grandi laghi va verso l'Atlantico, un canale navigabile e anche grazie all'applicazione abbiamo detto del battello a vapore che è stato appunto proprio inventato negli Stati Uniti e poi ripreso. Nel 1851 c'è la prima esposizione universale a Londra e Londra diventa davanti a tutti gli occhi di tutto il mondo il simbolo della rivoluzione industriale, della modernità, del nuovo mondo di commerci, di produzione, però abbiamo visto anche che questo nuovo mondo, il mondo del capitale, il mondo dell'apertura dei mercati a questa modalità produttiva nuova, che poi quella che caratterizza in parte anche l'epoca contemporanea, porta con sé luci e ombre, porta con sé anche la nascita di un grande conflitto sociale che nel corso dell'Ottocento andrà poi verso una polarizzazione sempre maggiore e anche verso conseguenze esplosive. Ok, ciao a tutti, viva la storia!